Una struttura nuova di quattro piani, peraltro già inaugurata nell'aprile del 2019 con l'apertura dei servizi consultoriali e vaccinali, è da oggi pienamente funzionante, in grado di fornire diversi servizi ambulatoriali e amministrativi ai cittadini di Montesilvano e non solo. È il nuovo distretto sanitario che da Corso Umberto si è definitivamente trasferito in Via Dagnese, luogo decisamente più accogliente e dotato di un ampio parcheggio e zone pedonali. Sentiamo la direttrice dell'area distrettuale di Montesilvano, Rita Mazzocca. La popolazione ormai ha raggiunto quasi 70.000 abitanti, quindi la città di Montesilvano necessitava una struttura che fosse dignitosa e che potesse accogliere tutta la popolazione. Quindi rispetto alla sede di Corso Umberto questa qui sicuramente avrà dei servizi in più? Senz'altro, in base poi vediamo ai bisogni della popolazione da concordare con la direzione strategica e con il Comune, vedremo quindi quali servizi attivare. Già stiamo provvedendo comunque soltanto da definire. Avete anche un po' il polso della situazione, la gente che arriva, che cosa dici? Quali sono abbiamo visto una calma? In pratica tutti erano soddisfatti della nuova apertura che aspettavano da tempo, diciamo. E quindi nessun commento negativo, anzi insomma, finalmente hanno dato un attimo di respiro. Grazie.